Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso italiano che ho trovato interessante. Parliamo del caso di Mirko Alessi, un uomo di 44 anni. Partiamo quindi immediatamente dai fatti, perché il protagonista di questo caso è un riaconfesso. All'alba del 26 giugno 2016, più precisamente alle 6.20 circa, alla centrale operativa dei Carabinieri di Firenze, arriva una chiamata da parte di una donna di origine coreana. La donna dice che nei pressi della stazione Santa Maria Novella, più precisamente in via fiume numero 1, è presente una ragazza piena di sangue sulle gambe ed è senza pantaloni. I Carabinieri si affrettano ad arrivare sul posto, entrano dunque in un androne e trovano dunque questa donna, per terra, semi svestita ma ancora viva. Quella donna cerca di parlare ma non riesce a pronunciare una sola parola. Sembra voglia dell'acqua, lo fa capire portandosi le mani alla bocca, pare abbia bisogno di bere. Attorno a lei c'è molto sangue, un carabiniere prova a farle qualche domanda, ma ahimè non ottiene alcuna risposta. Le autorità a questo punto chiamano il 118 per fare intervenire un'ambulanza. Poi si guardano intorno e notano delle tracce di sangue che portano al portone condominiale. Sulle scale, sulle pareti delle scale, sulla ringhiera, c'è davvero molto sangue. I Carabinieri dunque seguono queste tracce di sangue fino ad arrivare al primo piano. La porta è aperta e dinanzi a loro trovano un vero e proprio lago di sangue. A circa due metri dall'ingresso è presente un coltello da cucina intriso di sangue. Il manico di quel coltello è arancione. La chiamata giunta ai Carabinieri però denunciava solo una donna trovata nell'androne di un palazzo aperto con del sangue sulle gambe. Non si sarebbero mai e poi mai immaginati uno scenario simile, quindi estraggono le armi e in allerta entrano in quell'appartamento. Passano a fianco ad una camera da letto più piccolina. È semi buia. I Carabinieri entrano nella stanza e trovano incastrato tra il letto e il muro un corpo. È quello della trans brasiliana Kimberly. All'anagrafe Gilberto Manuel da Silva. Kimberly ha gli occhi sbarrati, ha le braccia protese verso il cielo ed è già presente in rigor mortis. Ma non è ferita qui perché sulla scena a un certo punto si presenta un'altra donna. Anche lei è mezza svestita, insomma, non ha i pantaloni. È in chiaro stato confusionale e prova ad entrare in casa. Parla con un carabiniere e chiede posso entrare? L'uomo le risponde ferma, no, no, non puoi entrare, ferma, vai via di lì. E la ragazza risponde ma perché non posso entrare in casa? All'arrivo dell'ambulanza i carabinieri riescono ad identificare la donna trovata a terra nell'androne del palazzo. Si chiama Mariela. È una giovane sudamericana e per ora è ancora in vita. Purtroppo Mariela non sopravviverà. Morirà infatti appena giunta in ospedale. Ed è a questo punto che le vittime diventano due. La donna in stato confusionale che si presenta sulla scena del crimine si chiama Marlenitz e appare immediatamente coinvolta in questo duplice delitto. Quindi ecco che partono le indagini. E come di consueto si inizia dall'autopsia del cadavere di Kimberly, ritrovata nel suo appartamento, nella camera da letto. Kimberly è stata colpita da 94 coltellate. Le ferite però sono di più perché alcune risultano trapassanti. L'alesività mortale interessa il fegato e il polmone destro. Alcuni colpi, alcune coltellate, hanno reciso i vasi di grosso calibro. Quindi la morte è da riferire ad un arresto cardiorespiratorio terminale dovuto allo shock emorragico per l'improvvise massiva perdita di sangue. Mariela invece presenta 18 ferite di arma bianca. Quindi anche lei ha ricevuto 18 coltellate. La lesione letale è sulla coscia sinistra che le ha reciso l'arteria femorale. Creando anche in questo caso un sanguinamento massivo. Il sangue dunque non arrivava al cervello. Ecco perché Mariela non è sopravvissuta. È dunque una furia omicida quella che si è abbattuta all'alba del 29 giugno del 2016, in quell'appartamento a pochi passi dalla stazione di Firenze. Ma, nonostante l'orario, qualcuno per caso ha notato qualcosa di strano? Qualcuno ha sentito qualcosa? Qualcuno per caso si è imbattuto nell'assassino senza volerlo? Ebbene sì, un autista di autobus è arrivato presso la stazione di Santa Maria Novella per le 6.05. E ha notato una persona camminare davanti a lui a circa 10 metri di distanza, completamente coperta di sangue. A primo impatto dice l'autista che questa persona sembra coperta di rosso. Potrebbe anche essere pittura, ma no, quello è sangue. Durante la stessa giornata, infatti, questo autista, sentendo la notizia per radio, riesce a collegare tutto. Lui, quella mattina, alle 6.05, ha visto l'assassino. Nel frattempo, al 112, giunge una chiamata da parte del padre dell'assassino, ossia Mirko Alessi, il quale racconta di aver ricevuto una chiamata a sua volta dal figlio che gli aveva detto di aver ucciso tre persone, quindi stava andando a suicidarsi. L'uomo, ovviamente, aveva paura che il figlio si suicidasse per davvero. Ecco perché aveva chiamato i carabinieri. Chi risponde alla chiamata però non ha idea di chi sia Alessi Mirko. Ne ha idea degli omicidi avvenuti a Firenze quella mattina. L'assassino aveva ucciso due persone. Era uscito da quella casa e, non molto tempo dopo, aveva contattato suo padre per dirgli che aveva ammazzato tre persone, non due. Mirko, in pratica, aveva confessato lo stesso giorno del delitto, qualche ora dopo. Il padre di Mirko, quindi, si mette in contatto con la sua ex moglie, le spiega la situazione e la prega di provare a rintracciare il loro figlio perché a lui non risponde più. La madre, dunque, prova a contattare Mirko, che risponde e le dice «È successo! È successo! Ora fate la vostra vita! Dimenticatemi! Io non ne posso più! Un po' è anche colpa vostra se siamo venuti su in questa maniera. Sto andando a Tirregna, voglio vedere quale carabiniere mi trova prima». Mirko Alessi, il colpevole di questo duplice omicidio, ha in effetti contattato i suoi genitori, ma non ha contattato i carabinieri che nel frattempo gli danno la caccia. In breve tempo scoprono dove si trova la sua abitazione, più precisamente in via Palazzuolo. Non è lontano dal luogo in cui è avvenuto il duplice omicidio, di conseguenza vengono controllate le telecamere presenti nella zona. Il primo riscontro della presenza di Mirko viene effettuato alle 5.57, in via Fiume, dalla telecamera dell'hotel Albani. Per la precisione, dalla telecamera numero 14, viene riscontrata una seconda presenza di Mirko con i vestiti pieni zeppi di sangue, in via Santa Croce e Caterina da Siena. Nel frattempo una pattuglia giunge in via Palazzuolo numero 45, ossia a casa di Mirko. Il punto è che non trovano nessuno, di Mirko non c'è traccia. I carabinieri entrano in casa e trovano solo dei suoi indumenti intrisi di sangue. Viene fatto un ulteriore accesso nell'appartamento di Mirko per verificare la compatibilità del coltello individuato sulla scena del crimine con quelli presenti all'interno della sua abitazione. E infatti, men che non si dica che i carabinieri trovano un set di coltelli con i manici arancioni, all'appello manca un coltello, proprio quello individuato sulla scena del crimine. È chiaro quindi che il colpevole sia proprio Mirko Alessi, come indicano le prove trovate a casa sua. Ma di nuovo non c'è alcuna traccia. Possibile si voglia davvero togliere la vita come ha detto suo padre? Le ricerche vanno avanti per tutto il giorno, fino a quando Mirko viene avvistato all'eventuno in un piccolo paese in provincia di Siena, a Monticiano per la precisione, che sta circa a 70 km da Firenze. Ma che cosa succede? Il 30 giugno 2016, verso l'eventuno, per l'appunto a Monticiano, Mirko ferma un signore per strada. Gli chiede per cortesia un telefono per effettuare una chiamata e scappa. Alle 21.30 Mirko si mette in contatto con i carabinieri di Monticiano. Si identifica e dice di aver commesso un triplice omicidio a Firenze, non un duplice omicidio. Il rigadiere dei carabinieri che risponde alla chiamata si rende conto di essere letteralmente in linea con l'assassino. Dunque continua a tenerlo in linea, circa di farlo parlare. La telefonata si svolge così e i miei toni non saranno assolutamente casuali. Il tono di Mirko è proprio questo. Mirko infatti dice Sì caro, buonasera. Senti, ma che devo fare per farmi prendere? Il carabiniere chiede immediatamente Scusi, ma lei dove si trova? Mirko risponde Ma sono qui in mezzo alla strada e trovatemi dai! Il carabiniere ribatte Dammi almeno una minima indicazione di dove tu sia. Dove ti trovi? Mirko risponde Aspetti perché non lo so bene, ora controllo. Il carabiniere dice a Mirko Controllo in che via ti trovi dai, così è più facile. Mirko risponde Allora io dovrei essere in via Tacconi. Il carabiniere a questo punto riprende e chiede Ok Mirko, ma mi puoi spiegare Che è successo? Per favore. Mirko risponde Beh, è successo che l'omicidio di stamattina Quello a Firenze Posso dirle? Posso parlarle? Posso dire la sincera verità? Ci sono due stronzi in meno. Il mondo sta meglio senza questa gente. Anche senza di me probabilmente sarebbe meglio eh Però vi racconterò le mie motivazioni Perché se no Io ho sbagliato tanto Però credetemi C'ho le mie ragioni Comunque io sto sempre qua eh Non mi muovo Che faccio? Sto al telefono con lei? Diciamo che ormai non avendo più nulla da perdere Potrei fare Un gesto un po' estremo Però No, non lo fa il gesto Perché Il carabiniere subito interviene E gli dice No, 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 Mirko Ti prego Mirko Non lo fare Mirko ribatte Ma no, infatti Sa perché? Sarebbe troppo facile Non è giusto Perché è giusto che ci metto la faccia Per quello che ho fatto Il carabiniere a questo punto esclama Oh mi raccomando Non muoverti Ora fermateli da qualche parte Ora eh Mirko ribatte Sì, mi scusi Io volevo solo un bicchier d'acqua Se è possibile Sono qui in mezzo alla piazza C'è anche un signore davanti a me Il carabiniere conclude dicendogli Guarda C'è un collega che ti sta raggiungendo Consegnati a lui Mirko viene ritrovato in piazza Garibaldi E dice al carabiniere che lo porta in caserma Guardi, io arrivo da Firenze E ho ammazzato delle persone Ho ammazzato della gente Mirko ovviamente viene arrestato immediatamente Il processo a suo carico Non deve stabilire le sue responsabilità Quelle sono chiare Lampanti Ma una domanda C'è Mirko quel gesto l'ha fatto con premeditazione E soprattutto Perché l'ha fatto? Qual è il movente? Pare che abbia ucciso Kimberly e la sua amica Mariela Senza un apparente motivo Ebbene Mirko ora è sul banco dei testimoni E tocca a lui parlare Tocca a lui dare la sua versione dei fatti Mirko quindi racconta che inizia a frequentare Kimberly Circa un anno e mezzo prima del fatto E va da lei pagandola Infatti Kimberly è una prostituta E Mirko è solito andare con le donne a pagamento Diciamo così I due Dice Mirko Si sono conosciuti in una chat di incontri Chiamata Toscana Trasgressiva In realtà quel sito non è una chat Ma è un vero proprio sito di annunci gratuiti Dunque Mirko e Kimberly si conoscono Tramite questo annuncio Lui la nota La contatta E Kimberly non ha alcun problema È il suo lavoro d'altronde Kimberly quindi come già vi ho detto Accetta di incontrare Mirko Il punto è che la loro frequentazione Non si ferma ad un solo incontro I due continuano a vedersi Mirko sostiene che inizialmente Il suo rapporto con Kimberly È solo e soltanto Di natura fisica Ma quel tempo inizia a instaurare Con lei un rapporto decisamente più importante Di un mero incontro intimo Tra i due si crea complicità Mirko si confida con Kimberly Inizia a vederla come una persona Di fiducia con cui parlare E in effetti Mirko si confida solo con lei Kimberly è molto dolce È comprensiva Sa ascoltare E quindi per Mirko Diventa quasi un'amica Il punto è che il pubblico ministero Non crede che il rapporto Tra Kimberly e Mirko Fosse un rapporto Di reciproco sostegno Basato su confidenze familiari e personali Ma bensì Che si basasse su vizi E dipendenze Come hanno dimostrato Gli esiti della perquisizione Fatta A casa di Kimberly Nella stanza più piccola In cui giaceva il corpo di Kimberly Vengono rinvenuti Degli elementi di interesse Nel dettaglio Sotto al comodino Gli inquirenti Trovano un piatto Con dei residui di Coca-Cola Non la bevanda La polvere Analizzando un cappello di Kimberly Risulta evidente Che assumesse da tempo E in modo Costante Sostanze Specialmente Coca-Cola Infatti ogni volta che Kimberly e Mirko Si incontrano Consumano parecchio alcol E parecchia sostanza Mirko però Questa Coca-Cola Non la consuma Solo in compagnia di Kimberly Bensì Abusa Di quella sostanza E ahimè ormai Lo fa da parecchio tempo La sera del 29 giugno 2016 Prima di recarsi da Kimberly Mirko esce con un suo amico Christian Vanni I due stanno al bar Chiacchierano Christian beve qualche birra Mentre Mirko beve qualche campari con gin E qualche negroni E una serata tranquilla Come tutte le altre I due si salutano Verso la mezzanotte Successivamente Mirko Tornando verso Firenze Contatta un corriere di sostanze Per acquistare Della Coca-Cola E dell'MD Torna a casa Assume un po' di queste sostanze E poi Contatta Kimberly La vera domanda A cui è necessario dare risposta è Perché Mirko contatta Kimberly? La risposta potrebbe apparire Alquanto scontata Vorrebbe avere un rapporto con lei Vorrebbe consumare Un pochettino di sostanza con lei Vorrebbe passare del tempo con lei Potrebbe essere? Sì Però Mirko dice che non è andata proprio così Mirko in realtà dice in tribunale Di aver contattato Kimberly Perché aveva bisogno di parlare con lei Ma Di cosa dovevano parlare? Mirko sostiene che aveva contattato Kimberly Per parlarne perché voleva allontanarsi da lei Era in realtà da tempo che provava ad allontanarsi da Kimberly Senza però riuscirci In quanto A quanto dice in aula Kimberly non lo lasciava andare Non lo lasciava libero Anzi Era ormai da qualche mese che lo ricattava In quanto voleva continuare a fare uso di sostanze E quello che gliele procurava era proprio Mirko Ecco perché Mirko quella sera Aveva deciso di recarsi da Kimberly Ma In che modo Kimberly ricattava Mirko? Ebbene Kimberly diceva a Mirko che se l'avesse lasciata Lei sarebbe andata dalla sua ex compagna Daniela E le avrebbe rivelato tutto Compreso il consumo di sostanze Ora magari vi starete chiedendo Ma se era la sua ex compagna Dov'era il problema? Il problema sta nel fatto che Mirko ha un figlio con questa donna Daniela Un figlio di nome Christian E se la sua ex avesse saputo del suo consumo abituale della sostanza Probabilmente gli avrebbe impedito di vederlo Christian in effetti era stato affidato alla madre Ma Mirko aveva la possibilità di vederlo e di stare con lui Un weekend ogni due settimane E un giorno a scelta della settimana E' palese E' chiaro Mirko è tanto affezionato al suo figlio Gli vuole un bene dell'anima E in tribunale a processo Dice Christian per me era tutto Era la mia vita Era la parte pulita della mia vita L'unica soddisfazione In una vita fatta di tanti sbagli Di tanti fallimenti Christian è l'unica cosa veramente bella Riuscita Lui davvero era tutto per me Ora fortunatamente riesco a vederlo Però lo vedo solo una volta al mese Quindi Mirko Alessi sostiene che Kimberly Avida e spregiudicata Minacciava di mettere in pericolo il rapporto con suo figlio L'unico vero grande amore della sua vita Ed è proprio per questo motivo che Mirko Cerca di prendere le distanze Infatti Kimberly non accetta proprio di essere abbandonata Però sbucano fuori degli sms E palesemente in contrasto con la versione di Mirko Il 27 giugno del 2016 Quindi due giorni prima della tragedia Mirko manda un sms a Kimberly E in effetti il contenuto del messaggio è davvero molto dolce L'uomo scrive Tesoro vorrei stare con te solo per piacere Non per soldi Ma per te non è così Quando vorrai stare con me solo per piacere Fammi sapere Kimberly risponde a Mirko dicendogli Vieni pure Mirko ribatte Ma davvero? Posso? Kimberly ribatte Sì certo Vieni Da questi messaggi si evince chiaramente che Mirko Avesse chiesto a Kimberly Di avere un rapporto solo per piacere Senza soldi E Kimberly Gli aveva detto di sì Mirko a processo dice Sì certo in quel messaggio mi ha risposto di sì Ma la realtà è molto diversa Quei messaggi non rispecchiano la realtà Ora io mi chiedo Dinanza dei messaggi così tanto palesi Come diamine si fa ad asserire Che la realtà sia un'altra? Solitamente i messaggi di testo Sono una prova davvero molto importante Così come le chiamate intercettate Mirko in aula dice solo che la realtà era ben diversa da quei messaggi Ok In cosa era diversa? Perché era diversa? Perché Mirko e Kimberly avevano avuto uno scambio del genere Sì in realtà la situazione era tutt'altro che serena? La domanda a questo punto a me sorge palese Come possiamo credere che Kimberly lo ricattasse? Era lui a cercarla e anche la sera del delitto? È stato lui a contattarla Non il contrario Mirko ogni volta che si recava da Kimberly Spendeva circa 300 euro tra prestazione e sostanze E la vedeva anche tre volte a settimana Questo vuol dire che Mirko in una sola settimana Era in grado di fumarsi 900 euro E questa è una cifra davvero esagerata 29 giugno del 2016 Ossia la sera della tragedia Mirko si dirige da Kimberly verso l'1.30 Portando con sé un coltello da cucina Ma perché Mirko prende questo coltello per uccidere Kimberly? La risposta sembra così ovvia Ma in tribunale durante il processo Mirko dice che lui quel coltello in realtà l'ha portato con sé Solo per spaventare Kimberly Quindi Mirko arriva a casa di Kimberly Suona La donna gli apre Ma questa volta Kimberly non lo porta nella solita stanza Nella solita camera Ossia quella più grande Bensì lo conduce in quella più piccola Mirko chiede a Kimberly come mai ci sia questo cambio di stanza E la donna risponde tranquillamente che nell'altra stanza Ci sono due sue amiche che rimarranno ospiti da lei per qualche giorno A questo punto Mirko e Kimberly si chiudono in camera Iniziano a parlare del più e del meno Quando Mirko inizia immediatamente a far presente a Kimberly Che non è più intenzionato a portare avanti la loro relazione Kimberly però lo distrae Gli dice di non pensarci subito E lo invita a consumare un po' di sostanza con lei Quindi i due consumano della sostanza e poi incominciano a parlare Per parlare i due si spogliano Si mettono a letto Consumano qualche birra Però Mirko dice comunque Che la sua intenzione era quella di dare un taglio a questo rapporto In ogni caso i due a letto sdraiati Non consumano alcun rapporto Ben se si coccolano Si danno i bacini, i bacetti, le carezzine Mirko però dopo aver dato bacini e bacetti a Kimberly Di nuovo le fa presente di voler troncare la relazione Ma Kimberly non è assolutamente d'accordo con lui Nonostante ciò quella notte tra i due Non vi è alcun litigio I due discutono della cosa Ma non iniziano ad urlare, ad alzare la voce Non c'è un litigio furibondo Nulla di tutto ciò Questo fa pensare che Mirko si sia effettivamente Recato da Kimberly con l'intenzione di ucciderla La PM in questo caso Durante il processo Fa un'osservazione a mio avviso interessante Mirko in realtà non vuole rompere effettivamente La frequentazione con Kimberly Beh si vuole rompere con tutti gli aspetti Negativi della sua vita Che sono in effetti Incentrati nella figura di Kimberly Kimberly per Mirko Rappresenta il lato fallimentare della sua vita Il consumo della sostanza I rapporti a pagamento I rapporti superficiali Mirko vuole rompere Con questo lato della sua vita E questo lato della sua vita è rappresentato da Kimberly Come già vi ho detto Tra i due non c'è stato alcun litigio E infatti Vanno avanti A parlare Sempre di questa situazione Di questo argomento Per tutta la notte E mentre discutono Sono sempre sdraiati sul letto Mezzi nudi Insomma Hanno addosso solo la biancheria intima Bevono qualche birra Fanno di nuovo uso Della sostanza E continuano a parlare della stessa cosa Per tutta la notte Tutta Mirko le dice che vuole troncare Lei non è d'accordo Lo minaccia Gli dice che è lei il suo unico amore Deve pensare solo a lei Perché se la lasciasse La loro storia potrebbe uscire fuori in qualche modo E la sua scompagna In men che non si dica Avrebbe scoperto tutto Dal consumo massiccio della sostanza A le sue frequentazioni Ormai sono passate delle ore Sono le 5 del mattino Ed è a questo punto Che Mirko decide di rivestirsi E andarsene Prima di andarsene però Mirko si gira Guarda Kimberly e le dice Girati sul letto Mettiti di schiena Che voglio lasciarti un ultimo regalo Estrai quindi dai pantaloni Il coltello da cucina Che si era portato da casa Sale a cavalcioni su Kimberly E inizia a colpirla La prima coltellata La dà alla schiena di Kimberly Mirko però dopo quel primo colpo Non riesce più a fermarsi Continua a colpire Kimberly Infierisce sul corpo Di quella donna Fino a colpirla Con 94 coltellate A processo però La sua versione cambia un pochettino Non è stato lui a chiedere a Kimberly Di girarsi E lei che l'ha fatto da sola Dunque lui ha approfittato della cosa Gli è salito a cavalcioni Ha estratto il coltello Dei pantaloni E gliel'ha passato lungo la schiena Solo a quel punto L'ha colpita In pratica Mirko colpisce di spalle Kimberly Per avere un vantaggio Può in questo modo iniziare a ferirla Rendendola più debole Dopo le prime tre coltellate alla schiena Kimberly si gira Prova a proteggersi Ma la furia di Mirko è assurda È implacabile Arriva addirittura a dire Ma questa quanto cazzo ci mette a morire? Quando Kimberly ormai è senza vita Per terra Tra il letto e il muro Mirko esce dalla camera Sta per uscire dall'appartamento Poi si blocca Si gira Va verso la camera da letto più grande E inizia a bussare insistentemente alla porta In quella camera ci sono Mariela e Marlenitz Le amiche ospiti di Kimberly Inizialmente Mirko si limita a bussare Poi inizia a urlare Aiuto Kimberly non sta bene Aiutatemi A quel punto si sveglia del tutto Si alza Fa per aprire la porta Marlenitz ha una strana sensazione Quindi prega di non applicare quella porta Mariela dice a Marlenitz No Se Kimberly ha bisogno di aiuto Io devo aprire questa porta E devo andare ad aiutarla Appena Mariela apre la porta Si ritrova davanti Mirko Che la colpisce con 18 coltellate Marlenitz riesce solo a vedere Un uomo Piero di sangue Che inizia a colpire insistentemente La sua amica con delle coltellate Quindi si guarda intorno Si gira Vede la finestra Sono al primo piano rialzato Ci sono circa 4 metri Tra la finestra e la strada Ma Marlenitz non ci pensa due volte Scappa Si lancia letteralmente dalla finestra Cade Si rialza E inizia a correre Mariela Santos Cruz Una ragazza di 27 anni Ospite per caso Nella casa di Kimberly Viene ritrovata Dopo essersi trascinata Fino al cortile del palazzo Mentre Marlenitz La ragazza che riesce a scappare Dalla finestra Ha 25 anni Ma perché Mariela e Marlenitz Erano a casa Di Kimberly Quel 29 giugno? Marlenitz L'unica ragazza Che fortunatamente Si è riuscita a salvare Testimonia Che sono andate a Firenze Da Kimberly Per andarla a trovare Perché si erano conosciute Qualche anno prima a Viareggio Quindi Mariela e Marlenitz Arrivano a casa di Kimberly La salutano Le danno una mano Per sistemare un po' Preparano la cena Lavano i piatti E poi Per le 11 Si chiudono in camera Dico che si chiudono in camera Perché effettivamente Marlenitz Nota che è inserita una chiave Nella serratura Quindi decide di chiudere la porta Mariela e Marlenitz Dunque per le 11 Del 29 giugno 2016 Vanno a dormire Mentre Kimberly Rimane sveglia Tutto ciò che è avvenuto dopo Il delitto di Kimberly È chiaro Mirko esce dalla camera di Kimberly E bussa alla porta Dell'altra camera Con l'intenzione Di uccidere Ogni eventuale testimone Però riesce a colpire Solo Mariela In quanto Marlenitz Si lancia dalla finestra Salvandosi Ma parliamo un attimino Di questo delitto Dal punto di vista Della difesa Se ci pensiamo razionalmente Mirko ha ucciso Mariela Senza Alcun Motivo Logico Le due ragazze Stavano dormendo Avevano addirittura La porta Della camera Chiusa a chiave Se avessero sentito Qualche rumore Probabilmente avrebbero aperto Sarebbero andate a controllare E invece a svegliarle È stato proprio Mirko Quando avrebbe potuto Andarsene Indisturbato Le amiche di Kimberly Avrebbero rinveluto Il suo corpo Solo al loro risveglio Quindi Almeno a distanza Di qualche ora Dal fatto Mirko colpendo Mariela E facendo scappare Marlenitz Si è fatto scoprire Molto Ma molto più facilmente Marlenitz dunque Fugge buttandosi Dalla finestra Come già vi ho detto Corre E poco più avanti Incrocia un uomo Di origini indiane Il quale la ferma E le chiede Cosa stia succedendo Perché mai Si è buttata Dalla finestra In quel modo L'ha vista Ha fatto un volo Assurdo Marlenitz è in stato Confusionale Non riesce a spiegare Bene cosa sia successo Quindi l'uomo le dice Che se vuole Può usare il suo telefono Per allertare la polizia Marlenitz però È nel panico E piuttosto che contattare La polizia Prova a chiamare Sua sorella Che però È a Santo Domingo Marlenitz A questo punto Non sa chi chiamare La polizia Nonostante la non chiamata Di Marlenitz Arriva ben presto In via fiume Dunque la ragazza Torna immediatamente Verso la casa di Kimberly Vedendo le forze dell'ordine Appena Marlenitz Torna sulla scena Del crimine Vede immediatamente La sua amica Riversa nel cortile Completamente piena di sangue Mariela Era riuscita a scappare Trascinandosi fuori casa Rimanendo Nel cortile del palazzo Sono evidenti Le tracce ematiche Che portano All'appartamento di Kimberly Marlenitz Prova ad entrare in casa Ma un carabiniere Le chiede di allontanarsi Di uscire proprio dal palazzo Poi di colpo Marlenitz Sente una fitta Lancinante Alla schiena Non riesce neanche più A camminare Marlenitz Non si era resa conto Del dolore Fino a quel momento A causa dell'adrenalina E' certo che Mirko Dopo il delitto Torna a casa sua Si ferma per farsi una doccia E cambiarsi i vestiti Pieni di sangue Non si preoccupa Di nascondere quei vestiti Poi sale in macchina Su una Citroën C1 rossa Pare che Mirko Stia attuando una fuga Tanto che decide Di non passare Per l'autostrada Per evitare Di farsi riprendere Mirko guida Verso Pisa Passa da Empoli A San Mignato Arriva fino a Venturina Terme Il telefono Lo spegne Lo distrugge All'altezza di Empoli Inoltre ad un certo punto Si ferma in un parcheggio In cui nota un'auto Che a lui Appare abbandonata Quindi decide Di fare il cambio Delle targhe Questo vuol dire Che Mirko Si disfa del suo cellulare Rendendosi Irrintracciabile Percorre strade secondarie Per non essere ripreso E sostituisce la targa Della propria autovettura Con quella Di un'altra autovettura Peraltro guardate un po' Dello stesso modello Una Citroen C1 La fuga di Mirko Si conclude a Monticiano Intorno alle 21 del 29 luglio Il padre di Mirko Alessi Riceve una chiamata Dei carabinieri I quali lo informano Di aver arrestato suo figlio Mirko è in stato confusionale Risponde alle domande Dei carabinieri Ma non è chiaro Non riesce a spiegarsi bene E viene anche quindi Chiamata un'avvocatessa Questa avvocatessa Telefona al padre di Mirko La mattina del 30 giugno 2016 Dicendo che con Mirko È impossibile ragionare In quanto ha un atteggiamento Al di fuori dal comune È fuori controllo Dice cose che non hanno senso Ad un certo punto Le ha addirittura detto Di non aver bisogno Di un'avvocatessa Ha già fatto e disfatto lui Tutto Non c'è bisogno Di un'avvocatessa Secondo la difesa È proprio nello stato confusionale In cui è stato arrestato l'imputato Che va ricercato Il motivo Di questo efferato Duplice omicidio Infatti Mirko abusava Di sostanze Da parecchio tempo Vizio che peraltro Condivideva anche con la vittima Il consulente del pubblico ministero Uno psichiatra Conclude Che è necessario distinguere L'abuso della sostanza Dalla dipendenza Della sostanza Questo psichiatra Non ha concluso La presenza Di un vizio parziale Di mente Perché è la dipendenza Che può ridurre La capacità Di intendere Di volere Questo psichiatra Asserisce ciò Senza sapere La quantità di sostanza Che Mirko ha assunto Durante la notte Della mattanza E questa quantità Di sostanza Potrebbe essere davvero Molto elevata A me a questo punto Sorge una domanda spontanea Come faceva Mirko Ad andare a lavorare? Si faceva Le 5 del mattino E si impizzava Dalla mattina alla sera? Beh Sentendo la seconda Consulente del pubblico ministero Sempre una psichiatra Lui stesso Ha asserito Che il giorno dopo Andava a lavorare Tranquillamente Eppure in orario Quindi questa psichiatra Si è fidata Delle parole Di Mirko Senza effettuare Alcun controllo Quindi Cara mia consulente Fammi un po' capire Interroghi un uomo Che ha commesso Un duplice omicidio Sotto sostanze Sai Che di questa sostanza Ne abusa Ma nel momento In cui ti dice No ma io a lavoro Ci andavo tranquillo Credi Senza problemi A ciò che ti dice Mi pare sia un po' troppo comodo Accettare queste risposte Senza cercare Ulteriori conferme Sarebbe stato sufficiente Sentire i genitori di Mirko Per comprendere la situazione Che da ormai un anno Stava degenerando Sempre di più Mirko lavorava Nella pelletteria Di suo padre E sua madre a processo Lo definisce come Un bravo dipendente Mirko era tranquillo Socievole Era un buon operaio Però c'è un fatto No Mirko non si recava Regolarmente a lavoro Stiamo scherzando Spesso inventava Scuse su scuse Per non presentarsi Una volta era malato Un'altra volta aveva la febbre Un'altra volta aveva un impegno Quindi sì insomma Era un buon dipendente Quando si presentava a lavoro Nell'ultimo anno e mezzo Aveva iniziato a dare Seri problemi Mancava per giornate intere E il padre dice Che spesso si inventava qualcosa Per non presentarsi a lavoro Specialmente Il lunedì mattina Secondo la difesa Dunque le testimonianze Dei genitori di Mirko Smentiscono la tesi Dei due consulenti Dell'accusa Infatti Mirko Nell'ultimo periodo Era bugiardo Distratto E non si presentava a lavoro Comunque è proprio questa Secondo la difesa La prova del fatto Che Mirko Facesse un uso smodato Di questa sostanza Tutti peraltro Sappiamo che un consumo Smodato di sostanza Come la Coca Cola Richiede anche un consumo Sempre più ampio Di denaro E Mirko Quindi aveva problemi economici? Beh Sì Ne aveva E come? La madre di Mirko sostiene Di aver notato la cosa Una sola volta In quanto Mirko Il giorno prima Aveva preso lo stipendio E il giorno dopo Era andato da sua madre Per chiederle 5 euro Col fine di comprarsi Un pacchetto di sigarette La madre di Mirko Peraltro Non ha mai pensato Che avesse problemi Per la Coca Cola Bensì Per l'alcol In quanto Ammette chiaramente Che negli anni L'ha visto bere Sempre di più Mirko non era uno Di quegli uomini Che beveva solo al bar Anzi Tutt'altro Spesso andava a trovare Sua madre Passava la serata Con lei giocando a carte E Sua madre Ha potuto notare Chiaramente Quanto alcol Ingerisse suo figlio Troppo Davvero troppo Ma qui sorge Un'altra domanda Quanto percepiva Di stipendio Mirko Non è per farci Gli affari suoi Ci mancherebbe altro Però visto che qui Si parla di consumo Smodato di sostanza E di soldi La domanda Sorge spontanea Ebbene Il padre spiega A processo Che un giorno Mirko a lavoro Ha avuto un vero e proprio Attacco di panico Mentre parlava di soldi Con suo padre Mirko gli diceva Che a lui lo stipendio Non bastava I soldi Non gli bastavano proprio Quindi Suo padre Aveva addirittura Deciso di alzargli Lo stipendio Mirko riceveva Una busta paga Da 1900 euro Al mese Ma non è finita qui Ogni venerdì sera Suo padre Gli dava ulteriori 100 euro 100 euro Per quattro weekend Sono ulteriori 400 euro Quindi Mirko In un mese Percepiva circa 2300 euro Di stipendio Non pagava L'affitto della casa Le bollette della casa Le pagava la ditta La macchina La benzina L'assicurazione La pagava la ditta Questo vuol dire Che Mirko Aveva 2300 euro Al mese Che poteva spendere Solo e soltanto In vizi L'ex compagna Di Mirko Alessi Ossia Daniela Testimonia in tribunale Dicendo che Mirko Non ha mai saltato Un solo mese Di mantenimento Negli ultimi tempi Però aveva notato Che faceva un po' Fatica a mettere Insieme i soldi A questo punto Mirko dice chiaramente Che prima di conoscere Kimberley A lui i soldi Bastavano E avanzavano Poteva spendere Per i suoi vizi E i suoi stravizi E riusciva addirittura A mettere dei soldi Da parte E ci credo 1.300 euro al mese Quindi Nella vita di Mirko Alessi Che io definirei Anche un pochino Misera Sembra essere Tutto normale Se non calcoliamo Il consumo eccessivo Di rapporti a pagamento Ma soprattutto Di sostanze Secondo l'accusa Però tutto questo Non è sufficiente Per spiegare Il gesto così efferato Che ha commesso Il tutto Secondo loro Va ricercato Nella cattiveria umana Nell'accettare l'idea Che il male esiste E che un uomo Può Toccare gli avvissi Più oscuri Motivato solo Dalla sua pochezza Dal suo egocentrismo E dal facile tornaconto Per la difesa Invece c'è qualcosa Nel passato dell'imputato Che aiuta in qualche modo A capire i suoi comportamenti Attenzione Non a giustificarli Bensì a comprenderli Sono due cose molto diverse Il consulente di parte Che l'ha analizzato Sostiene che Mirko è un soggetto Che da un punto di vista Psicodinamico Ha negato Quelle che possono essere state Le sue problematiche Infantili e personali In pratica Le ha quasi rimosse E in effetti La madre di Mirko Quando quest'ultimo Era solo un neonato Ha avuto Grossi problemi A sistema nervoso In aula spiega Che ha avuto Un gravissimo E profondo esaurimento Nervoso post partum E Mirko Era un bambino Che non dormiva Mai Quindi la situazione Ha creato Dei conflitti incredibili Ma non per colpa di Mirko Che a quel tempo Era solo un bambino La donna lo ammette Non è stata assolutamente Una buona madre Per lui Nei suoi primi anni di vita Mirko Dalla nascita Fino ai suoi quattro anni Ha subito degli abusi Spesso sua madre lo picchiava Lo sfiorava Con la sigaretta accesa Lo bruciava Con la sigaretta accesa In un'occasione Lo aveva lasciato Fuori dalla porta Di casa Senza vestiti Un'altra volta Invece era addirittura Arrivata a infilarlo Nella lavatrice Però è un fatto Che una volta cresciuto Mirko Pare stare bene Aveva recuperato Il rapporto con sua madre Non era assolutamente In conflitto In quanto Quando Mirko Aveva circa quattro anni La donna aveva iniziato Un percorso psicologico Era andata in terapia Aveva iniziato Ad assumere dei farmaci E si era Decisamente ripresa Riuscendo di conseguenza Prendere coscienza Delle sue azioni Da quel momento Aveva cercato In tutti i modi Di stabilire Un rapporto sano Con Mirko E in effetti Col tempo C'era anche riuscita A quanto pare La difesa è convinta Che in realtà Mirko non abbia mai Superato il suo passato Così complicato E doloroso Che ha influito Sul suo equilibrio E sulla sua personalità E che soprattutto È all'origine Dei suoi comportamenti deviati Anche la separazione Con la sua compagna Daniela Luci Con cui era stato Per nove anni Aveva sicuramente Portato dei problemi A Mirko Sul piano psicologico Perché nonostante Lui e Daniela Si fossero Lasciati di comune Accordo Christian Ossia suo figlio Non riusciva più A vederlo come prima In quel periodo Mirko era Dimagrito Vistosamente Si vedeva proprio Che stava soffrendo Daniela ammette Che dopo la rottura Vedeva Mirko Sempre da solo E le sembrava Sempre anche molto triste Non crede sia giusto Utilizzare il termine Depresso Perché non ha Nessuna qualifica Per farlo Ma ai suoi occhi Le risultava così Vedeva il suo ex compagno Depresso Abbattuto Senza voglia di fare Svogliato Distratto Gli si illuminavano agli occhi Solo quando vedeva Suo figlio Christian Come già vi ho detto Era innamorato di suo figlio E quindi solo in quella situazione Mirko riusciva a cambiare Drasticamente Per passare del tempo In serenità con lui Ma ancor più della sua separazione Secondo la difesa Ha avuto un ruolo Determinante Sulle fragilità Di Mirko Alessi La separazione Fra i suoi genitori Avvenuta un paio d'anni Prima dei fatti Ma solo dopo Una lunga vita Di convivenza E violenza I rapporti Tra i genitori di Mirko Erano disastrosi Il loro matrimonio Era stato burrascoso Fin da subito Spessissimo litigavano Si mettevano le mani addosso E ahimè talvolta Mirko assisteva alla scena Ma aveva troppa paura Infatti non era mai intervenuto Quella di Mirko Per una vita In cui si sommano Improvvisi insuccessi E sofferenze Non fatti gravi in assoluto Ma vissuti da lui Con eccessiva intensità Secondo la difesa L'uomo chiaramente Ha cercato di superare Questi periodi Fatti di insuccessi Rifugiandosi Nella sostanza E nell'alcol Secondo la tesi Del consulente Della difesa Mirko Alessi Si era sempre sentito Rifiutato da tutti Dai suoi genitori Dalla sua ex compagna E da qui che nasce L'esigenza di sentirsi Accolto e accettato Da qualcuno E quindi si rivolge A chi Secondo lui Non l'avrebbe mai potuto Rifiutare Cerca delle prostitute E trova Kimberly Ma qualsiasi siano Le giustificazioni Per questa tragedia L'accusa sostiene Che questi sono Tutti appigli Psicologici In quanto In realtà Mirko Alessi Ha ucciso Con premeditazione Voleva uccidere Kimberly Il PM chiede L'ergassolo Con isolamento diurno Per due anni Mirko Alessi Viene giudicato Chiaramente colpevole E viene condannato A 30 anni di carcere Ridotti a 28 In appello In pratica Per i giudici Non c'è stata Alcuna premeditazione Del delitto Parliamo un attimino Di questa cosa Perché già vi immagino Incazzati Incazzate Come delle faine Sulle tastiere Pronti a commentare Pensiamoci Quanti comportamenti Senza senso Ha attuato Mirko Alessi Porta da casa Un coltello Secondo l'accusa Il suo fine Era quello Di uccidere Kimberly Certo Peccato che Quel coltello Lo usa ore Ed ore dopo Se voleva Semplicemente Togliere di mezzo Kimberly Perché non l'ha Fatto subito Perché ha aspettato Fino alle 5 del mattino Perché rimane Con lei A consumare Un sacco Di sostanza Perché non commette Quello che deve commettere Per poi tornare a casa E consumarsela da solo Questa sostanza Poi A quanto pare Ha chiesto a Kimberly Di girarsi Le ha passato la lama Sulla schiena O comunque Le ha pugnalate immediatamente Per poi continuare Per 94 volte Si è alzato È uscito dalla stanza Ha fatto per uscire Dalla casa Si è bloccato E nonostante sentisse Un silenzio assoluto Ha iniziato a bussare Nella camera da letto In cui dormivano Le amiche di Kimberly Uccidendone peraltro una Che bisogno c'era Di commettere Quest'altro delitto Davvero Razionalmente Che bisogno c'era Non stiamo parlando Di un serial Quindi Che bisogno c'era Di commettere Quest'altro delitto Posso capire Se le ragazze Avessero sentito Kimberly Urlare E si fossero precipitate Nella stanza Vedendo Mirko In feriere su di lei Ma non è andata così Quelle due ragazze Dormivano Non avevano sentito nulla Mirko lascia L'arma del delitto Sulla scena Un coltello Con un manico arancione Assolutamente riconoscibile In quanto fa parte Di un set di coltelli Presente In bella vista Nella sua cucina Quando arriva a casa Si toglie i vestiti Ma non si preoccupa Di liberarsene Li lascia un po' in cucina Un po' in bagno Si lava Si cambia Prende la macchina E chiama suo padre Confessando il delitto Poi inizia a vagare Senza meta E durante questo tragitto Fa anche perdere Le sue tracce Si libera del cellulare Prende strade secondarie Per non essere riconosciuto E ripreso Arrivando a Monticiano Per le 21 A quel punto È lui che contatta Le forze dell'ordine Per essere preso Chiede addirittura Per telefono Ma come devo fare Per farmi prendere È chiaro che questo comportamento Sia pieno zeppo Di contraddizioni Se hai confessato il delitto Un'ora dopo Averlo commesso A tuo padre A che pro scappi E tenti di far perdere Le tue tracce Per guadagnare tempo Beh Ne dubito Altrimenti evitavi Di confessare Ci sono tante cose Che non tornano Per quanto mi riguarda Anche se Non mi è chiaro Come si è riuscito A colpire Così tante volte Con una ferocia Cosina udita Riesco a rispondermi Solo così È stata l'alta dose Di sostanza Che ha assunto Quella sera Ora Rimane un'ultima domanda Kimberly ricattava Mirko? Questo Ahimè non possiamo saperlo Perché come al solito In aula Abbiamo sentito Le parole Dell'assassino E non della vittima Quello che è certo È che la ragazza Che è sopravvissuta Marlenitz Non riesce più A vivere come prima Nonostante gli anni trascorsi Ha ancora Fatica a dormire da sola Ha il terrore Di aprire qualsiasi porta Perché teme di ritrovarsi Davanti Un uomo totalmente Insanguinato Con in pugno Un coltello Per concludere Voglio leggervi Le parole dell'avvocato Di Mirko Al termine Dei processi L'uomo Dice Quella che deve scontare Mirko È una pena corposa Ma a quanto pare È come se fosse nato Una seconda volta Con questa sentenza L'ergastolo Sia a livello psicologico Che pratico Per un uomo Di 44 anni Padre di un bambino Di 10 Avrebbe segnato Un profondo distacco Con la libertà Oggi Mirko Si è disintossicato E sta frequentando Corsi scolastici E di cucina Non è più la stessa persona Che ho conosciuto Nel 2016 Oggi Mirko Vede la luce Credo che questa brutta vicenda Nella sua parte conclusiva Sia un caso Di perfetta applicazione Concreta Del principio costituzionale Di rieducazione E riabilitazione Del condannato Mirko Alessi È nato nuovamente E avrà una seconda vita Rossamente ragazze e ragazze Lo ripeterò sempre Per me Il carcere in Italia Deve essere Riabilitativo E rieducativo Certo è che Non è possibile Riabilitare tutti Un esempio pratico Di questa riabilitazione Ma riuscita Credo sia Angelo Izzo Ma voi fatemi sapere Cosa ne pensate di questo caso Lo conoscevate? Fatemi sapere Quello che volete Qui sotto nei commenti Detto questo ragazzi Ho finito di parlare In questo video Spero ovviamente Che questo video Possa essere stato Di vostro gradimento Io vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi E continuate a mangiare Le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazze Ciao ragazzi Ciao ragazzi